Non vogliamo che la discussione sorta sulle due torri sia l'alibi per stare fermi. Con queste parole Giorgio Raggi, presidente del Comitato di Sorveglianza di Coop Centro Italia, suona la carica all'amministrazione comunale e in particolare al sindaco Nando Mismetti, presentando alla città e alla stampa il progetto alternativo all'ettanto discusse torri gemelle, alte 78 metri, sulla costruzione delle quali si era infiammato il dibattito insieme alla stessa maggioranza e chiedendo tempi certi per l'arrivo dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale che possa dare il via ai lavori. Ecco l'alternativa, non più due torri ma una serie di edifici più bassi e comunque di 10 piani per 36 metri d'altezza. Con la rimodulazione dei volumi, l'estensione della parte residenziale nel progetto resta significativa e impattante, sorgendo sul lato dell'area atigua via Mameli, palazzi di una certa imponenza, dei quali la percezione d'ingombro è percepita in modo nitido anche da questa veduta prospettica dal ponte di Viale Firenze. Quello che Raggi e l'architetto Anacleto Cleri, Studia Raut, hanno ribattezzato come Piano B, manifestando palesemente la preferenza per la realizzazione delle due torri, che lascerebbero più spazio per l'area pedonale e maggior arreosità al progetto, utilizzerebbe 3.500 metri quadrati in meno rispetto alle concessioni edilizie del piano regolatore generale esistente per un minore sviluppo costruttivo quantificato in 10.000 metri cubi. Guardando al progetto del Polo delle Scienze, invece, sono state illustrate alcune caratteristiche nuove rispetto alla prima progettazione firmata Gaia Olenti, dopo anche le consultazioni con gli scienziati chiamati a dare vita al centro di ricerca. L'edificio di quattro piani trae origine dalla forma cilindrica propria del DNA scomposta in piani inclinati. Un involucro fortemente performante che punterà alla quasi autosufficienza energetica e che al primo piano ospiterà un cinema IMAX per proiezioni in HD e 3D a scopo scientifico. Al piano terra la reception e luoghi per mostre temporanee e permanenti, mentre al secondo, terzo e quarto piano le scienze avranno settori di ricerca dedicati, quali l'uomo e il suo ambiente, microcosme e particelle e macrocosme d'universo. Fuori dal polo scientifico e intorno all'area commerciale e residenziale, ecco ampi viali accessibili da ovunque, senza una porta d'ingresso, per uno spazio concepito interamente come area pedonale che ponga in sinergia il vicino parco fluviale con il centro storico e con l'area commerciale, la cui cifra resta, il verde e un gran numero di piazze su una superficie di 13 ettari, di cui 8,5 di proprietà di Coop Centro Italia. Al di sotto dell'area pedonale 45.000 m2 di parcheggio su due livelli per 1.300 posti auto.